Siamo a Cleto, oggi è il 19 agosto, primo giorno del Cleto Festival in compagnia di Andrea Formica che si occupa della parte gastronomica del Cleto Festival. Sì è vero, oggi sono venuto qui, sono scappato dalla cucina per andare a vedere la bella cosa che sono qua, la fuori uscita della prima sfornata del pane con una farina eccezionale, un'occhiata è sempre buona andare, però vedo che sono abbastanza in gamba, il pane della prima sfornata è buona, io vi dico che di assaggiarlo, di venire a Cleto dove si mangia veramente bene, si fanno dei bei spettacoli e passate tre giorni veramente fantastici. Quindi ci ha detto tutto, quindi stasera 19.30, Porta Forgia, inizio del Cleto Festival, assaggerete il pane di Cleto, la famosa cialetta e ovviamente quello che ha preparato Andrea. In cucina, sì, è un bel piatto di pasta con salsicce e olive nere, che è stupenda, poi abbiamo delle frittate, cipolle e farina, la cosiddetta frittata dei poveri, no? Il mangiare dei poveri, che è stupenda, la cialetta, poi abbiamo altre cose che vanno abbinate nel menu, poi c'è il bere tutto quanto un insieme, veramente fantastico. Non mancate, Libri.tv, Riccardo Cristiano, Cleto.